È stata ricoverata in ospedale al caffoncello per essere sottoposta ad un intervento chirurgico lo scorso autunno. Tutto era andato bene, la donna, un'anziana del bellunese di 84 anni, dopo qualche giorno è stata dimessa. Ma al momento di recuperare le sue cose si è accorta che lei mancava l'anello con diamante. Lo aveva portato con sé perché le era caro e non se ne separava mai. Ma non avrebbe mai pensato che qualcuno potesse mettere mano nei suoi effetti personali. Eppure è accaduto, nonostante i consigli dei sanitari, a non lasciare nelle stanze dei reparti oggetti di valore. Così, una volta accertato che l'anello era sparito, immediatamente è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Treviso. Gli accertamenti degli investigatori dell'arma in collaborazione con la struttura ospedaliera hanno consentito di risalire ad una straniera, anch'essa adegente presso la struttura sanitaria nello stesso periodo dell'anziana e soprattutto sua compagna a distanza. Si tratta di una rumena di 38 anni con dimora nella Castellana, già conosciuta alle forze dell'ordine per il reato di ricettazione. Dopo gli accertamenti è stata disposta dall'autorità giudiziaria la perquisizione dell'abitazione della donna. I carabinieri hanno trovato nella casa della rumena l'anello di pregio della vittima. La 38enne è stata denunciata a piede libero per il reato di furto.